Cari amici di Duma Kanduma e simpatizzanti, fiocca la neve e fioccano anche le proposte per i regali natalizi. Ovviamente tra queste non poteva mancare un'idea regalo firmata Duma Kanduma. Ma non solo firmata Duma Kanduma, firmata anche Renato Collodoro, che per chi lo conosce sa che è la garanzia di un risultato, di un successo, di qualcosa che fa veramente del bene a noi stessi, ma soprattutto agli altri. Quindi Renato ed io abbiamo pensato di nuovo di unire le forze per continuare a sostenere il suo progetto di costruzione di una scuola in Etiopa. E lo abbiamo fatto confezionando per voi un'idea regalo che comprende il suo bellissimo libro Vado a Roma a piedi, il racconto di un'esperienza di 300 km di cammino da Siena a Roma, e comprende anche un buon'escursione, da utilizzare ovviamente con Duma Kanduma, il tutto al costo di 25 euro, il cui ricavato andrà devoluto interamente a sostegno del progetto che Renato appunto si è impegnato a realizzare. E visto che di libri ne abbiamo davvero da vendere, sotto a questo video potrete trovare tutti i riferimenti per contattare me e Renato per l'acquisto del libro e del buono dell'escursione. Mi raccomando, ci contiamo! E speriamo di vederti presto ad una delle nostre escursioni, o ad una delle cene che spesso Renato realizza, per continuare a raccogliere fondi per questo suo progetto. Allora ci vediamo, mi raccomando. COMPRALO! Sì, che poi, cioè, il libro è scritto bene, però non è nulla di... Sì, è bello, no, no, non si può dire nulla. È anche divertente sicuramente, però c'è confronto alla prefazione, la prefazione veramente è la sintesi, la sintesi, la somma proprio di quanto scritto sul cammino negli ultimi 30 anni, 40 anni, 50 anni. Però l'iniziativa è buona. Io, boh, mi so, io la sosterrei.